L'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi è funzionante a tutti gli effetti e con esso anche i collegamenti verso le città limitrofe. Nei giorni scorsi in particolare i comuni di Salerno-Battipaia, Bellizia e Pontecagnano-Faiano avevano siglato un accordo per il servizio che prevede, per l'appunto, la possibilità di corse dai per lo scalo con partenza o arrivo nelle città di qui sopra. Qualche polemica è nata dopo che un viaggiatore ha pubblicato sui social il prezzo di una corsa verso Salerno, per l'appunto dopo essere sceso dal treno. È la tariffa a causare qualche commento di troppo da parte del popolo della rete, spesso scritto da chi di quel servizio non lo soffrisce ma che, seduto ad un computer e con poca consapevolezza, si lancia in ardite disquisizioni sui più disparati argomenti. Dall'aeroporto a Salerno, solitamente il punto di arrivo alla stazione e viceversa, la tariffa è di 50 euro, un costo che è da considerare per la corsa in sé. Se essa viene condivisa con altri utenti, ad esempio, non cambia nulla e dunque il prezzo cada uno scende. La polemica in ogni caso ha fatto diventare la questione di stretta attualità. La decisione delle tariffe è stata presa in accordo con le istituzioni nel corso delle tante riunioni tenutesi nelle scorse settimane tra le parti. Sulla questione la categoria dei tassisti è netta. Secondo loro il costo, che pare eccessivo per un solo cliente, può essere abbattuto, ma per il lavoratore può non essere sufficiente a coprire le spese e il tempo impiegato per la corsa, variabile a seconda dei casi. Inoltre, secondo la categoria, al momento, essendoci pochi voli all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, il volume di clientela è ancora troppo esiguo. Diverse sono invece le tariffe per le altre tratte. 35 euro la corsa con destinazione alla stazione di Battipaglia, 25 euro per raggiungere Ponte Cagnano-Faiano, 15 per Bellizzi. Le tariffe riguardano un massimo di quattro persone e con un bagaglio cada uno.